Salve a tutti, io sono Gabriele e questo è un nuovo video, è uno scherzo telefonico, in inglese break. Non feci già un video di questo tipo, ma questo è diverso ed è anche più cattivo secondo me. Iniziamo. Chiamerò una persona a telefono nel mio video. Pronto? Eh, non te l'avevo detto, ti molto arrabbiavi, ti ho rubato 20 euro. Sì, ti ho rubato 20 euro. Ma quando? Ora mi li dai. No, mi servono soldi. No, mi servono i dai, ho fatto 20 euro. No, io me li tengo, mi servono, poi quando posso te li rendono. No, no. Come no? Sì. No. Perché? Perché no? Perché no? È uno scherzo, sei su YouTube. No, no. Ah, ti ho rubato anche le chiavi di casa, sapieni? No, ma qua non sono. È sempre uno scherzo. No, qua non è. Ciao. Ciao, prima. Bene, il video termina qui. Mi devo iscrivervi al mio canale, a visualizzare i miei video e metterci mi piace, veramente e soprattutto se mi capo. Noi ci vediamo al prossimo video. Un grande saluto e un grande abbraccio a tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti.